Ehi Shepard, se sei qui per fare la croce rossina, arrivi tardi. Fra poco potrò uscire. Lieto di sentirlo. Forse lo sai già, ma ho accettato l'offerta di Udina. Spettro Kaidan Alenco. È un bel passo. Sono il secondo spettro umano. Sempre troppo pochi. Udina pensa di organizzare una grande cerimonia, nonostante la guerra. Dice che in questo modo daremo una speranza alla gente. Sei pronto ad assumerti questa responsabilità? Dopo di te si aspetteranno molto, ma farò del mio meglio. È strano. Sarei dovuto morire su Marte. La promozione di Anderson, la nomina a Spettro. Questi sono giorni terribili, ma io ho avuto fortuna. Te la caverai benissimo. Già su Eden Prime ho capito che sei una persona speciale. Sei un soldato di valore. Grazie per queste parole. Sono felice. Voglio rendermi utile. Pensavo che potesse interessarti unirti alla Normandy. Sì, ci ho pensato. Come prima cosa devo uscire da qui, però. Ho delle faccende da risolvere. Ho cercato di individuare le mie vecchie squadre speciali, i miei studenti della divisione biotica. Ci sei riuscito? No. Si saranno nascosti, ma riuscirò a trovarli. Se fosse facile riuscirci, allora non sarebbero un granché. Beh, fammi sapere quando ce l'avrei fatta. Abbi cura di te, Spettro Alenco. Anche tu, comandante.